Buon pomeriggio a tutti, buon sabato pomeriggio, sono le 17 del 21 di luglio, il solito orario del fine settimana per consentirvi di avere il pranzo con le vostre famiglie senza disturbarvi troppo. Anticipo subito che domani, domenica 22 luglio, ci vedremo sempre alle ore 17, quindi l'orario domenicale. Prima di partire, come al solito, come di ritualità, vi invito a schiacciare su quella freccetta per poter allargare, diciamo, il pubblico di queste dirette Facebook, anche se naturalmente coloro che non riusciranno a vedere questo video in diretta potranno sempre trovarlo sulla pagina Facebook, sul mio sito imanscalfarotto.it e anche naturalmente su YouTube. Partiamo subito con le notizie del giorno, il commento dei fatti del giorno. Io partirei subito da ILVA. Come sapete, ILVA è un grosso dossier sulla scrivania del ministro Di Maio, una delle più grandi acciaglierie d'Europa, probabilmente la più grande acciaglieria d'Europa. Vale un punto di PIL, 20.000 lavoratori che sono coinvolti tra lo stabilimento di Taranto e l'Indotto, quindi un grosso, veramente un grosso stabilimento che è parte integrante della nostra economia. Dicevo, un punto di PIL, ma anche naturalmente la fonte di approvvigionamento dell'acciaio per l'Italia, che è la seconda potenza manifatturiera d'Europa. Noi ci dimentichiamo sempre di essere una grande potenza industriale e naturalmente una grande potenza industriale necessita di produrre dell'acciaio. ILVA ha pochi soldi in cassa, se non si prende una decisione tra poco dovrà sostanzialmente interrompere il lavoro e per com'è fatta un'acciaieria, questo è sostanzialmente impossibile perché tecnicamente il ciclo di produzione è a ciclo continuo, ma il Ministro Di Maio continua a non prendere una decisione, non prende una decisione su ILVA così come non la prende su Alitalia, così come non la prende su nulla, appunto su nessuno di quei dossier che dovrebbe gestire. Non soltanto questo, ma in questi giorni, in sostanza ieri c'è stata una particolare, una tappa importante di questa vicenda, perché il Ministro Di Maio è andato in Parlamento e è andato a dire che la gara su ILVA era un pasticcio. Gli ha risposto benissimo Carlo Calenda, con un video di 5 minuti che davvero vi consiglio di vedere, perché Calenda rimanda al mittente tutte le accuse di Di Maio, fa presente che ANAC ha potuto esprimere un parere soltanto sulla base di una documentazione molto parziale, come ANAC stessa ha detto. Calenda spiega per quale motivo la parte più sostanziosa della gara, quindi il parametro più importante fosse quello economico, perché quando si tratta di un'amministrazione straordinaria naturalmente bisogna tutelare i creditori e quindi aver scelto che il parametro economico fosse il 50% del valore della gara era proprio perché, essendo un'amministrazione straordinaria, bisognava tutelare i creditori. Calenda dice che normalmente il valore del parametro economico è addirittura 50-60% dell'intera gara e in questo caso ci siamo fermati al 50%. Calenda spiega perché non si è risposto al rilancio ulteriore di Accia Italia. Nella gara Accia Italia aveva offerto 1 miliardo e 2, mentre invece Mittal aveva offerto 1 miliardo e 8 e Calenda spiega bene che l'avvocatura di Stato alla quale lui si era rivolto aveva detto guardate che dovete riaprire poi l'intera gara perché è vero che c'è stato un rilancio di 50 milioni ma la gara non riguarda soltanto l'aspetto economico quindi dovresti andare a rivalutare anche gli altri aspetti e Calenda dice in questo modo avremmo dovuto fare una gara che sarebbe durata forse ancora un anno, ci sarebbe costata forse più di 350 milioni per avere soltanto 50 milioni in più da Accia Italia, Accia Italia che tra l'altro è stata fatta da Cassa Depositi e Prestiti, quindi dal governo. Calenda dice in un certo senso ci avrebbe fatto anche piacere se avesse offerto una proposta migliore, ma la proposta migliore era quella di Mittal. Quindi Calenda smonta punto per punto tutti questi aspetti e dice a Di Maio esattamente quello che ho cercato di spiegare io e cioè che la stessa ANAC dice guardate che al di là dei nostri appunti, delle nostre riflessioni fatte su questa gara, fatte sulla base della documentazione che abbiamo che non è una documentazione completa, comunque non è sul parere di ANAC che si può invalidare la gara. ANAC dice, Cantone dice a Di Maio guarda se la vuoi invalidare lo puoi fare sulla base dell'interesse nazionale, sull'interesse generale che è la ragione per la quale ogni gara può essere, può essere in un certo senso si può, diciamo, ragione per la quale si può tornare indietro in ogni caso, non soltanto in questo caso. Quindi è una decisione politica, se questa decisione politica la vuoi prendere, prendila, ma non puoi dire, e Cantone lo afferma ancora in una intervista di oggi al Corriere della Sera, non lo puoi fare sulla base del nostro parere, lo devi decidere tu. Ma Di Maio non decide niente, non decide né sulla gara né in nessun altro modo, né fa andare avanti il piano e come ho detto si sta esarendo il tempo. Quindi una sorta di inerzia inspiegabile che francamente io penso che il Paese pagherà, il Ministro sviluppo economico non sta prendendo le decisioni che deve e questo va segnalato assolutamente in tutti i modi. E quello che è più grave poi che va in Parlamento a dire cose inesatte e a calunniare un Ministro come Calenda che secondo me ha fatto un lavoro eccellente e tra l'altro Calenda gli dà anche un po' una lezione di stile secondo me perché Calenda dice, dato che Di Maio come al solito ha detto faremo un'indagine interna al Ministero, Calenda gli dice guarda la decisione è mia, l'ho presa io e quindi se c'è un responsabile sono io, non sono i dipendenti del Ministero, i funzionari del Ministero che sono persone bravissime e competenti dalle quali avresti qualcosa da imparare. Quindi io vi ho fatto un breve sunto della vicenda ma la verità appunto al di là del fatto che mi fido della parola di Calenda che ha seguito questo dossier molto da vicino e che Di Maio di fatto non se ne sta occupando. Se l'Ilva poi si sarà costretta a chiudere per l'inerzia del Ministro lo vedremo presto. Un'altra cosa che volevo segnalarvi, sempre dal punto di vista del governo, è che questo deve essere il governo del cambiamento, un governo che non si occupa di poltrone e invece pare che si occupino soltanto di quello. Finalmente, l'abbiamo seguita la vicenda nelle dirette di questi giorni, sono riusciti a nominare il nuovo amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti che si chiama Palermo, il nuovo direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si chiama Rivera. In tutto questo uno è targato in un modo, uno l'ha voluto Di Maio, l'altro l'ha voluto Tria. Nel frattempo si dice che Salvini diceva bene perché poi in realtà punta le ferrovie dello Stato e punta la RAI, quindi quello che doveva essere il governo della meritocrazia, dei curricula, è diventato il governo delle poltrone. In un certo senso devo dire, un po' come accade sempre, perché io capisco che quando si va a prendere una posizione di governo poi si vuole nei ruoli operativi persone di cui ci si fida. Quello che non mi sta bene, tra l'altro i professionisti che sono stati nominati, nulla da dire su Palermo, ma figuriamoci, nulla da dire su Rivera, per carità. Il punto è che quello che non torna è lo scandalo che si è sempre fatto in precedenza, cioè questi signori del Movimento 5 Stelle in particolare sono arrivati per aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno, ma stanno gestendo le istituzioni esattamente come ha fatto chiunque prima di loro, se non peggio, anzi io penso peggio perché poi questa sorta di doppia morale che loro utilizzano, per cui le assunzioni che facevamo noi dovevano essere giustamente guardate nel più profondo dettaglio e poi Di Maio assume la compaesana a fare la segretaria particolare del ministro. Ecco che anche lì non c'è niente di male se non fosse che ci hanno rotto le balle per anni su questioni che secondo me sulle quali non valeva la pena di creare uno scandalo. vogliamo dirne un'altra molto chiaramente, sapete che il ministro degli affari europei Savona è indagato per usura, io ribadisco sempre, sono un super garantista per cui Savona farà il suo processo, tra l'altro io capisco era nel consiglio di amministrazione di una grande banca e probabilmente non era lui che sapeva poi i tassi che venivano applicati ai mutui o ai prestiti da quella banca. Ma non sono certamente io che dico che se uno viene indagato deve lasciare tutto e essere messo alla gogna. Chi lo ha fatto è stato il Movimento 5 Stelle e gli organi di stampa che lo supportano. Primo tra tutti il Fatto Quotidiano oggi girava in rete un significativo confronto tra la prima pagina del fatto quando Luca Lotti fu indagato per l'affare Consip e la prima pagina di oggi in cui si parla di Savona indagato, Lotti indagato, era grande così, Savona indagato, piccolo piccolo in fondo nella pagina. Allora ripeto, quello che davvero mi fa abbastanza indignare non è appunto il fatto che Savona sia indagato, quello che mi fa indignare è che si è ridotto il dibattito pubblico a un vero e proprio, non so, mercato del pesce, con tutto il rispetto per il mercato del pesce e si è fatto degradare il confronto politico in Italia a un livello orribile per poi sostanzialmente trovarci al punto di prima, trovarci in un punto nel quale poi giustamente i giornali ci dicono che noi non dobbiamo far notare che Savona è indagato, io lo faccio nel modo più, come dire, garantista possibile, però lasciate che esprima tutta la mia indignazione perché se penso a tutte le indagini che sono state aperte contro il PD e che sono finite nel nulla o che addirittura, io non dimentichiamo mai il caso Consip con il famoso scafarto che costruiva le prove contro il papà di Matteo Renzi, allora presidente del Consiglio, diciamo e non so come definire una cosa di questo genere, allora quello che però ci rimane è un paese il cui dibattito pubblico è stato veramente ridotto in una miseria e questo è una, come dire, una sconfitta per tutti noi, per tutti noi italiani perché ci troviamo delle istituzioni che sono stanche, che sono state, che sono lise, che sono consunte perché in questi anni le cose sono state costruite in questo modo. L'ultima cosa che voglio dirvi, perché sabato e quindi facciamo una cosa non troppo lunga, è che a quanto pare il tesoriere del PD, Francesco Bonifazi, ha ottenuto un decreto ingiuntivo per Piero Grasso, l'ex presidente della Camera, che eletto nelle liste del PD non aveva mai versato una lira al partito. Ora, io devo dire che secondo me è giusto che noi parlamentari paghiamo le nostre, le cifre che dobbiamo al partito. Io immagino che voi non sappiate neanche quante sono, per cui vi do anche qualche numero così per avere un'idea, ma nel momento in cui io ho firmato l'accettazione della mia candidatura nel mese di marzo per diventare deputato del PD ho dovuto dare 10.000 euro subito al partito nazionale, 30.000 euro al partito regionale, che non avevo e quindi ho tutte insieme e quindi le sto rateizzando a 1.000 euro al mese, do 1.500 al partito nazionale, do 1.200 euro al mese al partito provinciale e do 100 euro al mese al mio circolo a Milano e naturalmente do, oltre tutto questo, pago il mio assistente parlamentare dandogli 3.100 euro al mese dalle quali detraggo tasse e contributi, quindi alla fine togliendo l'affitto di Roma, togliendo tutto quello che resta, a me restano circa 3.100 euro al mese in tasca alla fine della fiera, delle quali naturalmente non mi lamento, figuriamoci. Però per dire che se io non pagassi i soldi al partito mi resterebbero i 1.500 nel nazionale, i 1.200 del provinciale, i 100 euro del circolo e la realizzazione dei 30.000 che devo al partito regionale, sarei economicamente molto meglio. Allora è giusto che tra noi parlamentari paghiamo tutti, perché poi questi soldi vanno soprattutto ai dipendenti del partito che dopo il taglio del finanziamento pubblico abbiamo dovuto molto ridurre, alcuni sono in cassa integrazione, per cui io credo che tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte e non è naturalmente giusto che qualcuno paghi tutto in tempo e che alcuni non paghino niente. Siamo tra l'altro un partito di sinistra e quindi dovremmo avere a cuore il destino dei dipendenti del nostro partito, è vero qualcuno dice perché un partito deve avere dipendenti, ma è un discorso lungo che faremo un'altra volta. Io mi fermo qui adesso, vi do naturalmente appuntamento a domani alle ore 17, sempre in diretta Facebook, sempre da Milano. Vi ricordo di piggiare la freccetta e quindi di condividere questa diretta e di condividere eventualmente il video che vedrete più tardi, questo video che vedrete più tardi e che resta sul mio sito www.ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e su YouTube. Vi auguro un eccellente sabato sera e ci vediamo domani, domenica 22 luglio. Ciao a tutti e a presto!